www.mariziopoli.it, novembre, grande novità, non più ottobre, il mese dell'educazione finanziaria sarà a novembre. Quindi, da quest'anno, tutte le iniziative a livello nazionale saranno a novembre. Ci sarà anche un'importante novità, la giornata della legalità finanziaria, promossa dal Comitato di Dufin e dalla Guardia di Finanza col patrocino del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ci sarà la settimana dedicata all'educazione previdenziale e la giornata dell'educazione assicurativa. Ci saranno numerose iniziative, tra cui anche le nostre, e naturalmente lo slogan di quest'anno, ve lo preannuncio, è questo. Educazione finanziaria, oggi per il tuo domani. Questo è lo slogan per quest'anno e per le edizioni future, per un'attenzione alla finanza personale, non solo per essere più consapevoli, ma anche per riflettere su eventuali imprevisti futuri. Quindi non mi resta che dirvi una buona educazione finanziaria a tutti e seguiteci sui social. A presto!